E in questo video vi porto a vedere un po' tutte le novità di questo souk che era il vecchio souk arabo e che Gardaland ha ritematizzato proprio per riprendere la zona di Jumanji, sia di Adventure e ovviamente riprendere il tema del labirinto. E ora finalmente entriamo al souk arabo, il vecchio souk arabo di Gardaland andiamo a scoprire tutto ciò che hanno combinato qui dove c'era il vecchio souk che era uno spettacolo parte ovviamente l'hanno utilizzata per Jumanji del Labyrinth e parte l'hanno lasciata qui aperta per creare un collegamento è molto piccola in realtà questa zona però voglio portarvi a scoprire un po' cosa offre e soprattutto voglio sapere voi cosa ne pensate perché questa era una zona veramente bellissima tema appunto egiziano eccetera voglio sapere quindi la vostra soprattutto perché ripeto essendo una zona secondo me delle migliori del parco vediamo se comunque ancora questa nuova veste di Jumanji rende come rendeva prima certo queste strutture qui di Aladino forse non hanno proprio non c'entrano più molto con tutto questo aspetto qui però diciamo che non sono proprio dei contestualizzati ci mancherebbe altro però non hanno un vero senso non lo so mi sembra tutto un po' forzato perché anche avere un souk che poi si vada a riprendere a Jumanji già che viene fatto dentro Jumanji di Adventure secondo me è un po' eccessivo non lo so devo ancora farmelo andare giù soprattutto perché io amavo questa zona per come era fatta prima eh dicevamo effettivamente che questi materiali sono sempre sotto l'acqua questi teli queste cose cioè non so adesso perché a me piacciono le cose anche capire come funzionato tecnico cioè non si smarcisce tutto sì perché nei parchi serve roba bella ma pratica eh sì nel senso cioè deve resistere super resistente quindi non so se coprono qui comunque hanno riciclato i tavoli che c'erano al T-Rex stauranti hanno le luci ma sono accese queste luci in realtà vabbè questo è un particolare che ci sta perché essendo che questo è il periodo del Night is Magic eh le luci devono funzionare cioè la musica comunque è abbastanza presente non so da dove esca forse da vicino la pianta che la sento arrivare da là la vegetazione è presente non capisco se le piante sui muri siano vere anzi siano vere? no non è vera queste no però quelle là sopra l'edera sicuramente sì no 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 dietro no non sono sicuro dici neanche l'edera? no no neanche quella perché si vede palese che è finta sì no questa parte è completamente finta lì indietro però ovviamente ci sono delle piante che sono vere comunque la musica è molto bella e mi piace anche molto che hanno utilizzato questi cestini qua e ci sta anche comunque il muretto filaterale comunque è in tema ma io voglio assolutamente provare questo qui il Bazar Barrels c'è un drink snack shop dove potete appunto acquistare e bere e c'è lo zucchero filato molto figo lo zucchero filato lo fa da sola a piccola macchina comunque c'è la macchina che fa lo zucchero filato si fa tutto temperatura 51 gradi ok qua c'è uno shop praticamente automatico di giumaggi perché ce ne servivo un altro no? dopo quello che sta giumaggi da dentro 22 euro lo costruisco madonna madonna è lavico è lavico sui c'è i lag lavico è lavico questo è intermatrotone guarda la temperatura è 40.7 gradi allora ogni giocatore è composta da due palline ok due palline della stessa giocata dende vinci un premio scelta tua l'unico consiglio è che ti do di non mirare là ma bensì i lati aspettate volentieri due dentro la stessa due la stessa giocata due la stessa cosa ma daniele non è giocata non capisco nulla vediamo se riesco perché è sicuro risparso bravo 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 hai affinato la tecnica ho affinato la tecnica questa invece le lascio a Davide oh santa madre ok adesso che silenzio tutto ha capito grazie dai grazie ottimo ho appena buttato 5 euro fai se non divertire si 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 poi qui invece c'è il magic mirror ossia lo specchio magico non so cos'è in realtà 5 euro ah ti fa fare le foto è tutto a pagamento di sto succo non ho capito qualsiasi cosa si paga a parte il labirinto ho scritto che devo pagare ma non so cosa viene fuori si escono fuori queste foto animate no ragazzi va bene tutto ma 5 euro per lo specchio magico dove esce la foto animata anche no comunque pareri su questo succo allora come avete visto anche dal video c'era poco da dire nel senso che è effettivamente una zona carina però comunque mi sale un po' di dispiacere dopo tutto quello che era questa zona completamente tematizzata con la valle dei re ecco un po' di dispiacere mi sale poi soprattutto vedere che è una zona solamente praticamente realizzata per far spendere soldi alle persone con il magic mirror qui drink snack shop jungle shop dove ci sono i vari souvenir e poi l'area dove si gioca un po' di dispiacere mi viene la zona non è certamente mal tematizzata anzi insieme al labirinto almeno qui riprende tutta la storia e tutto il tema però ecco ripeto purtroppo ci sono dei problemi effettivi come quello appunto dell'Egitto che qua comunque in alcuni punti rimane evidente e che purtroppo non ha molto senso continuo a dire che la parte estetica a livello di vegetazione sia molto bella comunque il souk però rispetto al labirinto lo trovo di un livello comunque inferiore a livello proprio di tematizzazione stessa non lo so certamente io non avrei a prescindere fatto il labirinto e di conseguenza neanche questo nuovo Jumanji souk comunque voglio sapere anche voi cosa ne pensate questo è un mio parere soprattutto perché in realtà questa stagione a me sta piacendo molto il parco lo sto trovando in ottime condizioni anche il Night is Magic è stato stupendo semplicemente esprimo la mia opinione relativamente a questi ultimi cambiamenti queste ultime novità che ci sono state appunto voglio sapere anche voi cosa ne pensate quindi mi raccomando lasciate tanti like se siete appassionati di parchi ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nuovi video sui parchi a tema lasciate tanti like, commenti, condividete il video e io vi do appuntamento ad un nuovo video e io vi do appuntamento ad un nuovo video